Sei un grande, il tuo sorriso insomma rispecchia perfettamente questo bellissimo pomeriggio insomma in Verona ha riuscito a fare colpaccio, non era facile vincere a Livorno specie come avete fatto noi abbinando tre punti alla qualità del gioco. Partita difficile ma Livorno è venuto chiuso dietro tutti i 11 e poi eravamo consapevoli che dovevamo avere la pazienza di girare la palla per trovare quei buchi che erano difficili di trovare poi siamo stati bravi a trovarlo, poi anche il loro portiere è stato bravo su due o tre occasioni poi comunque abbiamo fatto una grande partita a tutti i ragazzi, siamo stati premiati con questa vittoria Una partenza con il freno a mano un po' tirato, per te forse anche il ministro Armandolini ti ha chiesto più dei compiti difensivi più che offensivi, poi nel secondo tempo insomma sei tornato il Martino che tutti conosciamo Cilegina sulla torta della tua prestazione, il secondo gol che ha chiuso definitivamente la partita Al primo tempo è stato un po' difficile perché avevamo studiato un tipo di gioco e non siamo riusciti a farlo poi il mister all'intervallo ha spiegato tutto che dovevamo fare e poi siamo riusciti a fare quello che lui ha chiesto e siamo stati bravi a fare i gol e a chiudere la partita Il sassuolo si è formato, finalmente viene da dire Noi non guardiamo gli altri, guardiamo noi stessi, quindi cercheremo di vincere il più possibile e fare il più punti possibile Grazie